sono le 11 e 20 prendo il testimone da jessica td per continuare la mattinata di radio fermo 1 e dare il benvenuto al nostro ospite è un piacere averlo qui perché parleremo insomma di mare quando c'è il mare inizia la bella stagione ma non solo do il benvenuto al presidente del marina di porto san giorgio e amministratore del gruppo marine di renato marconi buongiorno e benvenuto presidente buongiorno buongiorno a tutti grazie ancora di averci no è un onore per noi perché parleremo di una realtà cui tutti siamo legati vero la marina di porto san giorgio che nel corso degli anni come ogni cosa ha avuto la sua evoluzione e sta per affrontare ma sta già affrontando un processo importante di ulteriore cambiamento e miglioramento e crescita e questo equivale anche non solo alla crescita di questa struttura poi parleremo insomma dei tanti riconoscimenti ma di pari passo la crescita del territorio perché sono due elementi strettamente collegati io inizierei subito però parlando dell'importanza della marina di porto san giorgio quindi anche di per conoscere per far capire a chi ci ascolta qual è l'assetto lei è presidente e poi anche dell'occasione che è arrivata con l'ingresso della marina di porto san giorgio appunto nel gruppo marine di che va a raccogliere importantissimi porti in tutta italia sì allora innanzitutto la materia iniziale è ottima nel senso che la marina di porto san giorgio è uno dei più importanti porti del dell'atriatico italiano ma non solo italiano anche croato ha un numero di posti barca che si agisce intorno alle 850 unità e quando fu realizzato parliamo dei primi anni ottanta su iniziativa del cavaliere del lavoro ugo renzi fu una delle maggiori realizzazioni in italia in assoluto seconda solamente al porto di lavagna questo porto per un decennio diciamo ebbe grande fortuna in tutta in tutta l'area poi progressivamente ha avuto un declino l'anno scorso e gli eredi del cavaliere renzi hanno deciso di proseguire l'iniziativa affiancandoci marine di gruppo marine di nostro il nostro gruppo che ha attualmente 14 realtà 14 location in italia di portualità turistica appunto di marine questa è stata l'occasione per iniziare questo rilancio certo la stagione è stata quella del covi una stagione sicuramente sfidante difficile però anche esaltante perché noi ci siamo trovati con tante persone al fianco che hanno voluto in qualche maniera ridare una chance a questo splendido porto perché dal punto di vista infrastrutturale io sono ingegnere marittimo e posso affermarlo senza ombra di dubbio è stata una bellissima realizza è una bellissima realizzazione e però purtroppo aveva bisogno di un rilancio importante questo noi piano piano lo stiamo lo stiamo proponendo un un gioco di squadra che si arricchisce appunto di questa opportunità ovvero far parte della rete marine di che adesso qui ho qualche nome ma ne sono tantissimi porti che fanno parte di questo gruppo procida trapani chiave insomma sono veramente tanti e il fatto che porto san giorgio sia inserito in questa rete è automaticamente già solo per questo sinonimo di promozione in primi se sbaglio come per le reti dei alberghiere e la garanzia di appartenere appunto a un marchio un gruppo permette di garantire uno standard uno standard di servizio non solo ma la nostra clientela i clienti che stanno presso di noi per un anno più possono girare gli altri porti gratuitamente sostanzialmente cioè uno prende un fa un contratto annuale nel porto di appunto di marina di porto san giorgio e automaticamente se vuole andare in crociera a pieste piuttosto che a brindisi a policoro approcita come diceva lei o in sardegna villasinius anche per lunghi periodi fino a quattro mesi lo farà gratuitamente perché all'interno del nostro gruppo all'interno della nostra amministrazione poi peseremo le presenze in un porto piuttosto che un altro praticamente uno ha la garanzia di un ormeggio fisso in un luogo però poi può sfruttarne altri 13 esatto allo stesso tempo la cosa che mi affascina molto è che comunque in questo contesto direte siete riusciti e credo che sia una vostra priorità a mantenere fortissima l'identità dei singoli porti nelle loro differenze con appunto ogni porto che ha le sue caratteristiche questo diciamo che un po in italia viene naturale nel senso che siamo un un paese multiforme con culture le più diverse per cui parlare di sardegna parlare sicilia parlare di campagna significa parlare di paesi diversi di culture profondamente diverse ricchissime per cui abbiamo questa fortuna naturalmente questo è un po il mio pallino da quando ho cominciato a fare questa attività oltre vent'anni fa il ho sempre visto il retroterra di un marina di un porto come uno dei principali obiettivi della nostra attività perché perché un porto si differenzia da un altro non tanto dal servizio che come detto prima noi tentiamo di offrire in maniera standardizzata sempre quello è sempre ovviamente speriamo il migliore ma anche con il territorio retrostante si differenzia per l'enocastronomia per la cultura per i monumenti per la gente perché poi ognuno di questi posti ognuno di questi luoghi rappresenta l'italia rappresenta le diversità italiche è la nostra grande ricchezza e tra l'altro la buona notizia che con le operazioni di dragaggio che ci sono state adesso anche molti diportisti con le imbarcazioni insomma di dimensioni più importanti possono tornare al marina di porto san giorgio certo questo era il punto nero peggiore diciamo quello che ha prodotto naturalmente l'allontanamento negli ultimi dieci anni di moltissimi di moltissimi diportisti era era proprio questo grazie al comune di porto san giorgio che nell'ultimo periodo negli ultimi due anni è riuscito a completare un importante dragaggio del canale d'accesso consentendo così non solo ai diportisti ma anche pescatori perché c'è un'importante flotta peschereccia che anche un valore molto un valore aggiunto importante per per il nostro marina perché avere vicino il ceto peschereccio è sempre uno degli obiettivi della nostra attività da diporto la gente alla gente piace vedere il pesce piace vedere il la vita vera di mare perché di portista è un turista in realtà il pescatore invece è il lavoratore tipico del mare e questo piace molto a tutta a tutta a tutti gli appassionati del mare naturalmente guardi questo dragaggio è stato del comune che noi abbiamo completato con un livellamento interno e stiamo finendo adesso in questi giorni entro il 31 maggio si completerà consentirà di portare i fondali attorno ai 3 metri e 50 rispetto ai metro e 80 scarso che erano metro e 50 metri 80 che era l'anno scorso all'inizio del 2020 e naturalmente questo farà la differenza ci auguriamo insomma già la sta facendo no tra l'altro è un tema che stiamo seguendo anche come croniche fermane con il collega sandro renzi che tra l'altro scriverà un pezzo anche su questa intervista proprio perché è un presidio importante non solo per porto san giorgio ma per tutto il territorio quindi merita una grande attenzione tra l'altro poi presidente lei ha la fortuna di di essere alla alla guida come amministratore del gruppo e come presidente di una realtà che vista con gli occhi di un bambino è la cosa più affascinante che ci possa essere il porto no è da tutti la scena di portare i bambini al porto come diceva lei a vedere i pescherecci vedere le imbarcazioni anche respirare quello che è il clima no all'interno di un approdo e quindi è sempre stato un luogo affascinante un fascino che la marina di porto san giorgio ha visto riconosciuto da quando la bandiera blu è stata fondata quindi credo che sia un record ovvero da quando è nata la bandiera blu marina di porto san giorgio ha sempre ottenuto questo vessilo e ricordiamo che non è così scontato tenerlo perché abbiamo avuto l'esempio di comuni che l'hanno sempre avuta che poi improvvisamente non l'hanno più avuta quindi insomma è un record possiamo parlare insomma di un riconoscimento importante ma è 35 anni adesso diciamo che noi abbiamo l'onere di di mantenerla in questo momento perché a suo tempo 35 anni fa sono stati bravi ad averla per la prima volta perché poi difficile ovviamente è averla la prima volta poi dopo il mantenimento viene di suo se uno sta attento ma insomma il questo fa capire che fin dall'inizio questo porto è stato concepito con grande lungimiranza e grande volontà di migliorare il territorio è sì una una lungimiranza che sicuramente verrà incrementata soprattutto in quella che è la consapevolezza culturale per il territorio fermano quindi non solo per la città di porto san giorgio di avere un presidio turistico così importante per l'economia no il territorio fermano anzi anche dopo questa pandemia ha visto quella che era per tradizione nella sua entrata principale economica quindi il calzatoriero l'artigianato eccetera eccetera l'impresa familiare fare purtroppo un arretramento importante chi avanza però è tutta la parte turistica quindi l'ospitalità l'accoglienza anche nell'entroterra e il marina rappresenta in questo un volano proprio in prospettiva futura dell'economia turistica no consapevoli anche del fatto che se si esce dal casello dell'autostrada porto san giorgio il primo biglietto da visita è proprio il marina di porto san giorgio esattamente il nostro sogno è quello di portare il diportista a di passaggio perché noi trattiamo anche ovviamente barche in transito che non facciano solamente una specie di pit stop cioè un passaggio funzionale al rifornimento carburanti piuttosto che a fare cambusa ma anche a soffermarsi per quei due tre giorni quattro giorni che sono indispensabili per conoscere un po il retro terra da questo punto di vista ora stiamo arricchendo l'offerta anche con possibilità di noleggio di moto di macchine e di biciclette in maniera tale che il diportista da quel luogo dal porto possa cominciare a viaggiare girare fermo che sicuramente è una città straordinaria ma anche i comuni più lontani che hanno tutti un loro straordinario fascino i borghi i borghi delle marche sono sono famosi ma poco frequentati in realtà il nostro obiettivo è proprio quello di farli conoscere meglio quando avremo un numero significativo di diportisti che passano per fermo per vanno a comunanza vanno a montappone visto che ora è molto famoso o vanno in altri luoghi del genere scoprendo trattorie ristoranti sopraffini panorami straordinari paesaggi straordinari questo sarà il momento in cui abbiamo raggiunto il nostro scopo anche non solo perciò economico e marinaresco ma sociale no le sue parole mi danno fiducia perché lei ovviamente conosce gira l'italia per il suo ruolo di amministratore quindi credo che vedere da lei riconosciute delle potenzialità a questo territorio significa che effettivamente ci sono ma vanno sfruttate meglio e credo che forse una delle sfide principali possa essere anche quella di far sì che il marina non diventi più il porto dove fermarsi una notte per poi continuare verso un'altra destinazione turisticamente più nota eccetera bensì farlo entrare a far parte di un percorso di viaggio noi di un percorso turistico e questo e questo è il nostro il nostro obiettivo perciò due due funzioni quella di attrarre dall'esterno il diportista nel territorio e viceversa quella che il territorio conosca riconosca e diciamo apprezzi il marina nel suo complesso recentemente recentissimamente nell'ultimo mese abbiamo avuto un'esperienza straordinariamente positiva da questo punto di vista cioè del della compenetrazione del della città di porto san giorgio e del marina con visite guidate delle scolaresche di piccoli di bambini delle materne perché in quel momento la presenza era solo delle elementari e materne a scuola per cui hanno fatto un giro del marina da un lato hanno imparato la vita del pescatori e la vita del diporto perché hanno visto che gli è stato spiegato dai nostri operatori tutto quello che accade in una marina dall'altra hanno preso visione di dell'iniziativa culturale che abbiamo stiamo portando avanti insieme con la società carrusel e quella proprio di fare degli eventi culturali nel caso specifico abbiamo rivitalizzato il vecchio locale dell'approdo del che era la base del pontile che nel 1955 mi pare era stato realizzato il primo approdo dei pescatori su porto san giorgio e questo pontile che adesso non c'è più perché è stato demolito al momento della costruzione della marina però aveva lasciato questo antico relitto abbandonato trasformato in magazzino l'abbiamo ristrutturato ed è diventato una residenza d'artista noi accogliamo lì un artista mensilmente che farà lì una delle sue opere la prima Alice Vicentin l'ha già ha già fatto e ha affrescato questa stanza con un disegno splendido una pittura un dipinto splendido e i bambini hanno visto queste cose hanno si sono fatti affiancare dai propri maestri e hanno cominciato a dipingere delle cose che hanno poi lasciato a noi in in ricordo per cui hanno visto un artista che lavorava hanno lavorato loro come se fosse un laboratorio e poi hanno conosciuto il marina questa esperienza è stata apprezzata sia dai bambini sia dai loro genitori abbiamo aperto una porta che fino a questo momento era chiusa è vero è una consapevolezza sempre più un'integrazione con quello che anche il tessuto sociale e culturale di Porto San Giorgio e del territorio fermano tra l'altro parlando proprio di Porto San Giorgio che comunque è il comune che ospita fisicamente la marina c'è anche un piano di rilancio dell'intero porto no in cui è inserito ovviamente il marina ma inserita un po tutta l'area di accesso alla zona sud di Porto San Giorgio e io sono fiducioso perché ci credo molto ma sono convinto che potrebbe diventare una seconda piazza San Giorgese una piazza poi aperta a tutto il territorio perché pensiamo che fino a Grotta Mare il punto di riferimento resta fino a San Benedetto il punto di riferimento resta a marina di Porto San Giorgio quindi insomma partendo dalla città che vi ospita fare di questa di questa marina un punto di riferimento che la gente senta anche come luogo di incontro come luogo culturale come luogo di eventi eccetera eccetera esattamente questo sono reduce un'ora fa proprio un incontro con il sindaco di Porto San Giorgio su questo argomento perché l'autorizzazione per completare tutta l'area che adesso è un prato praticamente sono diversi ettari con servizi e costruzioni in maniera molto molto modesta rispetto a quello che era stato il pensiero originario d'oltronde la sensibilità ambientale e paesergistica che ormai grazie a Dio anche il nostro paese ha impedisce la costruzione di mostri edilizi che 30 anni fa erano possibili quell'area è rimasta da questo punto di vista preservato però adesso è da fecondare come sviluppo immobiliare completare perciò la piazza che c'è già sul mare e completare anche la vista di tutti gli alberghi presenti eccetera con un'area aperta al da un lato al commercio, negozi, ristoranti, dall'altro foresterie e uffici in quantità decisamente modesta perché su tutta l'area che sono circa 5 ettari andranno ad essere edificati meno di 9000 metri quadri di questo tipo di strutture per cui ci sarà molto verde, ci saranno molti parcheggi che sono indispensabili al porto, alla marina ma non solo perché naturalmente saranno poi a disposizione anche degli alberghi e degli istoranti lungomare visto che adesso anche con la ciclabile parecchi parcheggi sono stati eliminati i parcheggi lungomare però tutto questo migliorerà l'ambiente e renderà quell'area sicuramente centrale per Porto San Giorgio e tutti i paesi come diceva lei e tutte anche le aree circostanze Marina Palmenze e da chi scende da fermo esatto parlava di Marina Palmenze insomma sono in corso i lavori anche per il collegamento ciclopedonale insomma una bicicletta in barca c'entra tranquillamente si può scendere si va a fare una bella un bel giro in bici una nuotata e poi un giro in bici un triathlon presidente no senta un'ultima domanda perché abbiamo quasi esaurito il tempo cronologicamente parlando dal punto di vista ovviamente della percezione di noi cittadini quando potremo iniziare a vedere le prime i primi segni di questa grande rivoluzione dunque il nostro programma iniziato il primo gennaio del 2020 appunto in accordo con la dottoressa Renzi il dottor Matteo Renzi è quello che in tre anni di riuscire a raggiungere l'obiettivo cioè quello di completare l'opera che appunto dopo 40 anni sarebbe il caso perché il 1982-83 era la concessione demaniale per cui dopo 40 anni completare anche la parte a terra e questo pensiamo anche grazie appunto all'aiuto del comune che in questi ultimi due anni ha fatto passi da gigante mai fatti in precedenza per cui ce ne rallecriamo penso che nel 2023 potremo vedere potremo vedere finalmente il porto completato porto completato e pieno di barche perché è l'altro obiettivo fondamentale perché tutta questa iniziativa immobiliare vive e cresce ed è forte solo ed in quanto ci stanno le barche perché dobbiamo passare dalle residue dell'anno scorso 190 imbarcazioni almeno al 60% della capienza cioè intorno alle 500-550 imbarcazioni che è quello che è il normale di una marina di questo tipo Approfittando anche di questo momento storico, unico invece che fermarsi, investire per trovarsi pronti poi a quando le cose tra virgolette torneranno alla normalità, no? Nel senso avete già delle idee per questa stagione che arriverà? Sicuramente sì, il Covid non ci ha danneggiato più di tanto il nostro settore è un settore che è rimasto attrattivo perché naturalmente gli italiani non sono andati all'estero chi ha una barca la vede come un luogo abbastanza isolato perciò protetto rispetto al Covid è una risorsa è una risorsa e a questo punto in tutta Italia abbiamo visto un grande ritorno degli italiani e purtroppo quello che mancano sono gli stranieri però abbiamo scoperto che gli italiani sono molto di più degli stranieri che venivano da noi Bene, bene, bene Presidente, io la ringrazio grazie per il suo tempo e grazie per averci illustrato con chiarezza quella che sarà il futuro anche di un'area ma di un intero territorio che sempre più vede nel turismo una via di fuga ma anche una via di speranza da quello che è tutta la crisi del comparto manifatturiero e calzaturiero in primis quindi insomma questo percorso di riqualificazione da una parte ci lascia ben sperate dall'altra vi dà anche la consapevolezza di un ruolo importante che sempre più occuperete all'interno delle marche e del contesto provinciale del Fermano Piceno quindi grazie e buon lavoro Presidente Grazie, grazie a voi di permetterci di esprimere queste nostre iniziative è un piacere poi ovviamente questa intervista la potrete ritrovare più tardi su Cronache Fermane e ringrazio Simone Corazza per la regia video e tra poco torna Jessica e prosegue la mattinata di Radio Fermuno restate con noi Grazie a tutti